Ho sentito una trasmissione in radio nella quale è intervenuto un intellettuale, uno scienziatore, certo Alberto Gottardo, che ha dato un avvertimento ai napoletani. Non perdete il cuore, altrimenti vi resta solo a Unnez e Agamur. Ora, visto che i napoletani sono molto distratti, io lo volevo ringraziare per averlo ricordato. Altrimenti si rischia di fare come lui che, chissà, lui ha lasciato la cervella. Oh, racca miseria, la cervella è qui, ma ha giattato la scarpa.